E' per questo che la sinistra teme veramente di un vincenzo. Speriamo, speriamo. Io penso che sia una persona che ha le capacità per portare sull'Italia, per far lavorare la gente. Questo che c'è adesso, zero. Almeno lui qualcosa ha fatto. Speriamo, speriamo che Monti sta cercando di capire come fare politica. E io credo che non è un politico professionale. Quindi, a volte si capisce che non è molto capace di chiedere il proprio tune con le persone. Ma possiamo dire che è un cambiamento grande rispetto a tradizionali politici. Non è un grande discorso, non è carismatico, è molto grigio, è molto tecnocratico e molto grigio in modo di parlare. E credo che in questi network, lui ha cercato di trovare un nuovo passaggio per rinforzare tutte le persone che non erano a votare, a votare. Quindi, lui ha cercato di attrattare queste persone in un modo diverso. Ma, ovviamente, è un esperimento. Diciamo, è un mezzo a neve all'ora mediatico, no? Per arrivare a noi, in effetti. Poi ognuno di noi ha le sue scelte. Beh, comunque sono strumenti che sono, al giorno d'oggi voglio dire, come il politico che va in televisione. Chi va in televisione, chi usa Facebook, chi usa... Cioè, sono strumenti che esistono, quindi perché non usarli?